Ciao a tutti ragazzi, allora non siamo in Vittorial, oggi siamo nelle sponsorizzazioni Allora, oggi è che sponsorizziamo? Sponenziamo a JustPede, JohnX, John Pranzo, nemico, sono avuti nemici Marco126, Ita, Unknack, Perprovanta e BadriJ, BadriJ, ovvio Allora, andiamo a JustPede, fa riempire i videogiochi e speed art, come qua si vede, fa anche i video, voglio fare i video A 240 e 10 iscritti, ho fatto la descrizione, se vuoi fare quando iscritteremo, se vuoi fare quando iscritteremo E come vedete i vari video Poi passiamo a JohnX, JohnX fa video veramente pazzeschi Il telefono perché, l'avevo detto, che mi aveva un computer, lo scrivo, però si, ho fatto, dice, con i piedi dei cinesi 526 iscritti in attanti, in attanti Con, ah, 3600 di situazioni E insomma, è bravissimo Ha un bellissimo banner Credo già a JustPede, credo, prima Annali, come ci sono questi qua Stiamo a rispondire, c'è no Qui è, tu puoi vedere, fa game day di Minecraft, giochi vari Qua siamo, vi dicevo che tutto Minecraft Qua siamo John Pranzo Che fa video, sempre, di Minecraft Ha fatto StayWars un mese fa Poi ho detto che, siccome ricaricare lì, rappresentamente doveva fare dei danni a falliti leggeri Quindi, ora ricarica, sta caricando Quindi, andrà molto più veloce Ricarica un certo che gli dice queste domande di sicuranza E ha 7 iscritti, ne ha pochi, però è appena iniziato su YouTube Poi, andiamo a Marco 123 Ita 312 iscritti Vabbè, può far vedere le iscrizioni Fa due video Su, principalmente su web design di desktop E facendo giochi come Minecraft Per giochi vari anche i cat e Mario 3 Poi, vabbè, posso dare le sue iscrizioni Quindi, questo è me, guardate Questo è qua Vabbè, ovviamente Come il bellissimo banner E, come vedete, vedete, questo è un bellissimo ragazzo Da 29 dicembre del 2012 è scritto a YouTube Quindi, la volta di tempo Vediamo un Unknack Aspettate Unknack ha 360 mili iscritti E' scritto da giugno Io, giugno, non da YouTube Quindi Poi, io avevo un vecchio account Di febbraio Quindi, veramente, da febbraio Qua su YouTube Quindi, quasi un anno E poi, qua Tornare il primo piano Questi qua 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 come johnnyx se vedete e poi andiamo a vaddxj, vaddxj fa tanti video si fa tanti guardate ancora poi informazioni, 542 iscritti, iscritti da 580 e 5600 iscritti a tagli iscritti che sponziate qui di tutti e prendete che per oggi poter sponso irritazioni, primo episodio, sempre ciao a tutti